spedizione in tutta italia e europa car tablet dedicato ranger over evoc siamo in dimostrazione prima di spedire e poi passiamo alla spedizione e invio tracciabilità al cliente questa è la home gestione audio e video tramite le usb questa è la gestione musica abbiamo tutte le sezioni android adesso qui c'è la pellicola protettiva mohamed come vedi car tablet è arrivato domani ti inviamo tracciabilità al vita Grazie.